Servono a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite, non fanno andare via, diviniti con un panatico, la doppia e l'epidia. Sì un posto a tavola, che c'è un amico in più, se sparti un po' la tendola, stai capo anche tu, i amici a questo servono a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite, non fanno andare via, diviniti con un panatico, la doppia e l'epidia. Allegria Oggi voglio sapere da voi cosa mi interessa, cosa mi sta a cuore. Io vorrei fare la veterinaria. A me sta a cuore la famiglia. A me stanno a cuore gli amici e la mia famiglia. Quello che mi sta a cuore sono le persone che mi hanno cresciuto e mi hanno insegnato a vivere. A me piacerebbe viaggiare. Io voglio studiare lo spazio e le stelle. A me interessa giocare a calcio. Io vorrei fare la dentista. Tu, Giorgia, non parli ancora, vero? Non ti preoccupare, vedrai che presto ci riuscirai. Noi ti aiuteremo. I care? I care significa mi interessa, mi sta a cuore. A noi interessa tutto. Anche far parlare Giorgia, vero? Anche far parlare Giorgia, vero? Anche far parlare Giorgia. Grazie a tutti